Il grave evento di questa mattina è stata una grande ferita per la nostra città. Nessuno poteva immaginare che sarebbe successo. Ho ascoltato la famiglia Staniscia che adesso è a Pescara. Ho sentito anche il marito, l'avvocato Duco della signora Iavicoli. Tutte e due le famiglie va il saluto di tutta la nostra amministrazione e della città intera. Siamo vicini a loro, è un episodio gravissimo sul quale sicuramente farà luce la magistratura e le forze dell'ordine. Aspettiamo alcuni altri dettagli del motivo che ha portato questa persona. Vogliamo tranquillizzare la nostra città, i nostri concittadini. Riteniamo opportuno continuare a svolgere le feste di settembre che iniziano questa notte. Siamo convinti che grazie alle forze dell'ordine, grazie alla struttura del Comitato Feste, grazie all'impegno di tutti quanti, si svolgeranno in tranquillità e in sicurezza. È un episodio drammatico che rimarrà nelle nostre menti, ma per la quale ringraziamo la Madonna del Ponte, nostra protettrice, perché è andata nel migliore dei modi per le persone che sono state investite, che grazie a Dio sono fuori pericolo.